Si dice che l'1% del lavoro di 100 è sempre meglio del 100% del tuo singolo o del mio singolo individuale lavoro. Sai chi lo diceva questo? Non io che sono l'ultimo arrivato. Polghetti, un grande economista purtroppo morto. L'1% del lavoro di 100 persone è sempre meglio del mio singolo o del tuo singolo individuale lavoro. La frase di Michael Jordan con il talento vinci le partite, con il gioco di squadra vinci i campionati, community. Se vuoi andare lontano andiamo insieme, se vuoi andare veloce vai da solo. Vedi qua questa sala, sono persone unite che spingono verso un unico obiettivo e c'è qualcuno che pensa siete dei motivatori, siete dei sognatori, siete dei visionari. Sì, ovvio, siete dei gasati. La gente mi accusa tante volte di essere troppo gasato, troppo motivato. Mi dice Paolo sei un motivatore. Guarda, se tu avessi successo in un singolo settore nella tua vita, in uno, non in due, in un settore della tua vista, saresti gasato al ricordo. È ovvio che se hai fatto tanti soldi sei gasato. Ecco perché tante volte in questi meeting senti le persone urlare, senti le persone applaudire, senti le persone essere citate letteralmente.